Il palazzo di metro Il palazzo di Beni Il palazzo di il ragazzo è pieno di tempo di gente che viene e va come noi a Rockway Beach a Rockway Beach e poi dove andremo a capitare poi Queste sono le spiagge attrezzate con i bagnini e i servizi pubblici a Rockaway Beach immense con una bellissima passeggiata di piani e poi ci sono i ragazzi Un'area di Rockaway Beach del parco, qui, dedicata a l'amore in arcobaleno. Questa è un battesimo. Questa è un battesimo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pescatori. Pio pieno sto cercando di mangiarsi lo scuoletto. Anzi l'ha già mangiato in gran parte. Questi assomigliano ai cavalieri d'Italia con il peccolo ruso. Il Pio Pio. Simpatici uccellini delle spiagge. Una colonia immensa di Pio Pio sulla spiaggia. E altri in mare. Eccoli. Finne nere. Delfini. Questa è la nostra meta, la punta di Breezy Point. Ci stiamo arrivando dopo due ore e mezza dal traghetto. New York. Ecco la New York Manhattan sullo sfondo. Ed ecco la punta. Eccoci alla punta di Breezy Point, Rockaway Beach, Queens, New York. e mi ritorno verso il ferri. Maldigrassi 31 agosto Maldigrassi 31 agosto Maldigrassi 31 agosto